Qualcosa bisognerà saltare di pagare. Eccola, se si calcolasse in chili questo foglio di carta avrebbe il peso di una tonnellata. Questa è la tares che si ritrova a pagare la signora Marinella Miletic, titolare del panificio Romi in via Torino. Pagano, anche se la produzione è molto diminuita e i locali non sono più adeguati alla produzione. Cioè molte stanze e molti metri quadrati di questi laboratori non vengono utilizzati. Però in realtà la tares si basa sui metri quadrati calpestabili. Finito. E' un problema comune per tanti commercianti. In molti infatti in questi giorni rischiano di vedersi arrivare a una mazzata simile. Il commercio è il primo che è stato colpito dalla crisi. E' il primo che viene colpito adesso. Questa situazione assimila anche pizzerie, fiorai ed in generale i laboratori alimentari. Ma il pagamento della tassa, secondo la titolare, è spropositato rispetto a quanto produce e vende il suo esercizio. La tares, come è stato spiegato, si paga in base ai metri quadrati. Ed i panifici di Trieste hanno dimensioni notevoli rispetto ad altre città. E tutto ciò avviene proprio in prossimità del Natale. E sotto le feste, un pacchetto che non conserva affatto, un bel regalo. L'aumento è sproporzionato assolutissimamente agli incassi che noi facciamo. Noi già pagavamo 2.000 euro di tassa dell'immondizia, adesso sono arrivati 5.000 euro. Cosa da noi impossibile da coprire, in special modo in rate così vicine.